Allora io ringrazio oggettivamente tutti quelli che sono qui, ho fatto il test del tempo stamattina della relazione, era un pochettino lungo per cui andrò veloce saltando alcune immagini e cercando di focalizzarmi invece su altri discorsi. Io innanzitutto ricordo che lo stress ossidativo e l'inframaging sono due aspetti forse della stessa patologia degenerativa cronica che porta a molte malattie cronico-degenerative progressive come per esempio l'osteoporosi di cui io mi occupo mi occupo esclusivamente di osteoporosi. Porta anche ad altre cose però in questo momento le possiamo tralasciare. Giorgio, abbiamo... Allora l'argomento sarebbe vasto, l'han detto tutti, ognuno di noi sa benissimo che potrebbe parlare per ore e ore e ore per cui vi distruggerebbe la mente. Io ricordo soltanto che l'osteoporosi è molto frequente, è la terza malattia degenerativa che è presente nella popolazione mondiale e soprattutto nei paesi occidentali, salto velocemente e siccome mi sono autolimitato e che non si può parlare di osteoporosi in senso ampio, io cercherò di focalizzarmi su due argomenti che credo che possano essere di interesse non dico quotidiano ma quasi per la loro frequenza per chi si occupa, per gli specialisti della salute. E quali sono questi argomenti? L'osteoporosi da glucocorticoidi e l'osteoporosi da inibito dell'aromatase, cioè dire sono due tipi di osteoporosi secondaria, una conseguente all'uso dei corticosteroidi molto frequentemente utilizzati in medicina, l'altro dagli inibitori dell'aromatase che sono delle sostanze che vengono prescritte alle persone, alle signore, alle donne che hanno avuto un tumore al seno ormonosensibile e che quindi hanno bisogno di questo farmaco per poterlo tentare di mantenere sotto controllo. Questo la possiamo anche tralasciare perché ve l'ho già detto è estremamente frequente, inutile dirvi quante sono le persone che si fratturano. Questa qui addirittura è una diapositiva del 2013 di Bologna di ben 10 anni fa. La situazione è sicuramente peggiorata anche perché io in tutti questi anni ho visto ridurre l'età delle persone che venivano da me in studio per farsi curare per l'osteoporosi o persone che avevano avuto delle fratture da fragilità e che quindi erano sicuramente di un'età molto più giovane rispetto a quelle che io vedevo 10 anni fa quando ho fatto questa diapositiva e questo intervento qui a Bologna, sempre con Giorgio. Una cosa importante per quanto riguarda il discorso dell'osteoporosi ma anche di altre malattie degenerative è questa serie di microelementi che adesso sta al centro dell'attenzione che si chiamano SASP che sono i Nations Associated Secretory Phenotype. Che cosa sono queste qui? Praticamente sono delle citochine, delle interlochine, degli enzimi che modificano la matrice intercellulare e che portano ad un danno che può essere sia locale sia della stessa cellula quindi autocrino sia delle cellule vicine quindi paraclino oppure anche purtroppo anche a distanza. Sono fondamentalmente formate da interluchini infiammatori ma anche da altro e che hanno in realtà un compito che è quello di stimolare la guarigione delle ferite ma hanno tanti compiti negativi come succede in natura e che sono rappresentati per quello che mi interessa dall'infiammazione cronica dall'infiammazione cronica di basso livello e dall'infiammazione generale. Guarda caso questi SASP sono attivati dall'NFKB cioè di Nucle Factor KB e tutto quello che limita l'azione di questo attivatore di queste sostanze aiuta a non invecchiare la cellula e la cellula invecchiata poi provoca il danno. Uno dei danni che fa tra virgolette e ne abbiamo parlato e ne hanno parlato tanti colleghi oggi è l'accumulo di rossa di specie reattive dell'ossigeno le quali hanno sì delle azioni positive perché servono per esempio per attaccare batteri e virus e danneggiarli e farli eliminarli ma se superano certi livelli si va a sbilanciare quello che è l'equilibrio tra produzione di specie reattive dell'ossigeno e agenti antiossidanti provocando questo stress ossidativo e lo stress ossidativo mi va a danneggiare tutta una serie di alimenti tra cui per esempio i mitocondri, mi va a danneggiare l'espressione del DNA, mi va a danneggiare i proteasomi che sono quelle fabbrichette di distruzione delle cellule, scusatemi, delle molecole alterate per poter recuperare i componenti. Invece che cosa succede? Se si alterano la cellula si riempie di proteine alterate che sono molto spesse alla base di patologie degenerative. Ma una cosa che è estremamente importante anche è la preossidazione dei lipidi di membrana che altera la possibilità dei recettori presenti sulla cellula di riconoscere l'elemento che le deve attivare perché se si sposta è chiaro che non riesce più ad avere quella posizione buona per poter essere attivato. Cerco di andare velocemente sperando di comunque mantenere una certa chiedenza. Questa la possiamo tralasciare, però questa qui è più esemplificativa e abbastanza facile da comprendere, un sovraccarico di ROS che cosa mi comporta? Mi comporta che le cellule mesenchimali multipotenti hanno una difficoltà a attivare i precursori, a trasformarsi nei precursori ostoblastici, hanno poi una difficoltà a maturarsi i nostoblasti maturi. Al contrario invece hanno l'attivazione dei macrofagi, chiamano i macrofagi in sede per poter essere trasformati nei precursori osteoclasti che sono le cellule che andranno ad erodere l'osso e poi attiveranno questa citochina, il rank ligando che attiverà definitivamente l'osteoclasti e andremo ad avere un incremento di riassorbimento osseo. Quindi tutto questo per un eccesso di ROS. Tant'è vero che un bel lavoro del 2010 di un certo Manolagas stabilì con dovizia di particolare ed è stato citato più e più volte, centinaia di volte, come l'osteoporosi non fosse una malattia ormono collegata ma stress ossidativo correlata. Va bene, questo qui è abbastanza semplice però è una cosa importante ricordare che qualora ci sia un eccesso di specie attive dell'ossigeno le cellule mesenchimali multipotenti invece che indirizzarsi verso la formazione di condrociti o di osteociti, osteoblasti, vanno a trasformarsi in adipociti. Quindi c'è uno shunt verso delle cellule che non interessano almeno per quanto mi riguarda per la formazione dell'osso. Allora andiamo avanti, questo qui è praticamente una cosa abbastanza nota a chi si occupa di osteoporosi, almeno diciamo con altri occhi. I risultati con diversi agenti antiosteoporotici non sono soddisfacenti e questo qui non lo dice Gianfranco Pisano ma lo dice un lavoro pubblicato nel 2016 in una rivista più review ed c'è una rivista controllata da altri specialisti del settore e che quindi ci dice ma perché dobbiamo per forza utilizzare la classica farmacologia farmacopea formata soltanto calcio, vitamina D e antiriassorbitivi tipo i bifosfonati. Ci possono essere tante altre strade almeno come tentativi. Va bene? Allora adesso andiamo a parlare quello di cui io vi volevo prevalentemente focalizzare l'attenzione. Mi dai i tempi? 8 minuti. Perfetto, allora posso pigliare il fiato. Prima di parlare di questo però io mi ero preso due tre appuntini per i colleghi che mi hanno parlato prima di me. Allora, bisfenolo che è stato l'ultimo. Bisfenolo è un interferente endocrino che per quanto riguarda il discorso osteoporosi è molto importante perché guarda caso ha un'azione negativa sul metabolismo della vitamina D nella sua trasformazione da 25 idrossi vitamina D in 1,25 che poi è quella attiva che poi quella che ha il suo effetto anche ormonare e questo è il bisfenolo. Quindi per questo ho voluto parlarne. Poi un'altra cosa che mi aveva molto interessato e che mi interessa molto è il discorso dell'acidosi. Oggi hanno parlato di acidosi dei colleghi ed è vero. Se noi andiamo a fare il pH, facciamo una pH delle soft drinks, vediamo che ha un pH molto basso, molto molto, oltre ad essere molto zuccherine, hanno un pH molto basso. Quindi un pH molto basso è un pH acido che non va ad incidere. Ricordiamoci perché poi tutti i colleghi mi dicono ma che cavolo dici? Il pH è sempre lo stesso, 7,38, se non è 7,38 vuol dire che stai a morire. No, invece il problema è un altro, è il pH del microambiente. Il pH del microambiente non si riesce a misurare normalmente. Si riesce a misurare soltanto in centri universitari, in centri specializzati e il pH quando si incrementa l'acidità del microambiente si incrementano tante cose tra cui anche la richiesta da parte del microambiente di un tamponamento della situazione prendendo bicarbonato di calcio, praticamente da dove si piglia? Dalle ossa, non si può prendere da altre parti. Si piglia dalle ossa che il nostro organo ha maggiore attività tamponatrice. Poi un'altra cosa che mi era molto interessata era il discorso del collegamento con il guter microbiota. Il guter microbiota sappiamo benissimo che ha un'azione di equilibrio anche dal punto di vista dell'infiammazione. Un guter microbiota alterato determina la formazione, la fuoriuscita e l'aumento, l'incremento di interlochine infiammatorie tipo l'interlochina 6, l'interlochina 11, l'interlochina 17. Apro una parentesi, sapete tutti benissimo che adesso in interlochina 17 c'è un anticorpo monoclonale con il quale si sta cercando di curare alcune patologie di questo tipo. Bene, un guter microbiota alterato ha un'influenza enorme sull'alterazione del metabolismo osseo. Quindi porta ad un deficit osseo e quindi ad un osteoporosi. Tutto questo, che cosa mi dice anche, mi giustifica anche perché rispetto al 2013 io vedo molte più ragazze, io vedo molte più quarantenni, quarantacinquenni che non vedevo tanto tempo fa. Altra cosa, il discorso dello zolfo. I gruppi sulfidrici sono fondamentali anche per l'osteoporosi. Perché sono fondamentali anche per l'osteoporosi? Una fra tutte. L'osteocalcina è una specie di semaforo che indirizza il calcio da una parte oppure dall'altra. L'osteocalcina deve essere attivata e per essere attivata ha bisogno di un co-fattore che è la vitamina K2. Guarda a casa, la vitamina K2 si sacrifica ma non per sempre. Dopo viene recuperata con la cessione di gruppi sulfidrici, di gruppi SH. Poi l'ultima cosa, la butto là, è il rapporto paziente-malattia. Il collega che ha parlato della fibromialgia ha detto benissimo che non si guardano più i pazienti. Io per tutta una serie di motivi mi sono occupato sempre di osteoporosi gravidica che è una malattia, non è una malattia, io la chiamo una sindrome perché ha tante cause, che colpisce le mamme e che durante la gravidanza o immediatamente dopo vanno incontro a tutta una serie di discernimenti vertebrali. Per tutta una serie di casi strani credo di essere uno di quelli che nel mondo ce ne ha trattati di più almeno fino a poco tempo fa. Che cos'è successo? Dei colleghi di qualità sicuramente superiore alle mie, di conoscenze sicuramente superiori alle mie, sono entrati in questo giro e non hanno cercato di curare il malato ma stanno facendo degli studi per trovare un'unica ragione a tutte quante che secondo me, permettetemi di dirlo con tutto il rispetto per questi colleghi che io stimo tantissimo e che ne sanno cento volte più di me, però è una merita mischerata perché in questi casi non bisogna cercare una malattia, un elemento che porti a tutte ma vedere caso per caso che cosa gliel'ha provocato. Ripetiamo il nostro discorso. Due minuti. Allora, in questi due minuti io vi dico questo, sia gli inibitori dell'aromatasi, sia il cortisone tanto queste diapositive poi verranno rese disponibili. Allora, ha una fase iniziale più veloce con perdita di non tanto di massa ossea ma di qualità ossea, è una fase più tardiva ma ecco questa qui è una mock di una signora che in un anno di trattamento con cortisone ha perso una gran massa ossea e si è danneggiata prevalentemente dimostrando un danno sulla microarchitettura ossea, sulla qualità ossea, dimostrata dal TBS. Con un danno notevole, questa è una signora che stava di molto bene e è andata incontro ad una perdita importante, ha avuto una perdita anche a livello osseo. Lei era fortunata perché c'era un salvagno ricco però in un anno ha perso una bella quantità di grammi di calcio per centimetro quadro di terapia con cortisone. Andiamo avanti. Allora, la microarchitettura ossea, da che cos'è determinata? È determinata fondamentalmente dal collagene. Il collagene ha tutta una serie di meccanismi. In questi meccanismi intervengono due molecole importanti. Il silicio che stimola l'espressione genetica dell'MRNA per cui si producono le fibre di collagene che sono belle dritte. Dopodiché interviene un'altra cosina che si chiama vitamina C che comincia a farle intorcinare su se stesse. Altro intervento diventa quella forma per cui il collagene diventa molto resistente, le fibre di collagene diventano molto resistenti. Quindi nella realizzazione del collagene che è l'intraiatura dell'osso ma non solo, intervengono due elementi che sono la vitamina C e il 6. Andiamo avanti. Purtroppo noi la vitamina C non la riusciamo a sintetizzare perché i nostri antenati non ci hanno lasciato questa buona eredità, come non le riesce a fare la cavia e come non la riesce a fare quell'animale stranissimo che è il capibara. Non sia mentre altri animali riescono a sintetizzare la vitamina C. Le conclusioni sono queste. Allora, quello che vorrei che voi portaste a casa è questo qui. Da tutto questo discorso che poi tutto sommato diventa tutta quanta disquisizione chimica, biochimica, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda l'osteoporosi indotta da glucocorticoidi o GIOP come si chiama con l'acronima inglese, è più frequente di quanto si pensi. Ci dovete pensare quando vi trovate una persona che comincia la terapia con cortisone o corticosteroidi. Monitorare subito il T-score e il TBS, prevenirne lo sviluppo e supplementare sin da subito perché dopo quando si è sviluppato l'osteoporosi ci abbiamo un po' le mani legate. Allora, con che cosa? Con il silicio, d'accordo? Con gli antiossidanti. Qui è pieno di di Cell Food, ragazzi, che è un ottimo antiossidante. Adesso non è che voglio tirargli la cosa perché mi ha fatto mangiare oggi. Però è un ottimo antiossidante. La vitamina C, anche questa è estremamente importante, è il sulforafano. Il sulforafano ha un'azione meravigliosa per quanto riguarda il metabolismo osseo, inibisce la formazione degli osteoclasti e facilita la formazione degli osteoclasti. Andiamo poi a quelli che fanno la terapia con inibitori dell'aromatasi. Cosa, secondo me, dovreste portare a casa? Innanzitutto fare, quando si comincia la terapia con inibitori dell'aromatasi, una morfometria digitale DEXA, perché fanno fare la radiografia, ma solo radiazioni. La morfometria digitale DEXA ha una quantità di microsieverde bassissima, cioè quella che prendo io quando vado a fare studi a Catania in aereo, quindi molto bassa. Poi subito un T-score, un TBS e un CTX, il CTX che è la spazzatura dell'osso quando viene eroso. L'osso quando viene eroso questa proteina si rompe e lascia questa parte di proteina terminale che si può misurare che è il CTX. Prevenire lo sviluppo se non è presente. Supplementare da subito con queste sostanze. Silicio, antiossidanti, manca la vitamina C perché se no gli oncologi saltano per aria. Sulforafano, eventualmente in questi casi anche terapie farmacologiche sono necessarie. Io vi ringrazio l'attenzione e vi lascio. Grazie per la foto di tutti i benessi. Sì. Grazie per la visione!